Con il decreto 11 del 16 febbraio 2023, due giorni fa rispetto a quando sto registrando, oggi è il 18 febbraio, il governo cancella la possibilità di utilizzare la cessione del credito e lo sconto in fattura. Si è sentito bene? Cancella la cessione del credito. Totalmente non sarà più utilizzabile dal 17 febbraio in poi, tranne alcune eccezioni. In questo video cercherò di riassumerti i contenuti del decreto che è stato pubblicato in tarda serata il 16 febbraio scorso e che contiene nei tre articoli le modifiche che vanno a definire la responsabilità solidale con una sorta di lista della spesa e la cancellazione della cessione del credito e dello sconto in fattura. Ciao, mi chiamo Danilo, nella vita faccio anche il geometra. Se vuoi sostenere il lavoro che faccio di divulgazione, di approfondimento, di informazione sulle ultime notizie, lascia mi piace, iscriviti al canale e verifica i contenuti per gli abbonati. Nelle descrizioni trovi un breve video dove spiego in quattro minuti quali sono i vantaggi per gli abbonati. Gli abbonati possono accedere a contenuti esclusivi, video dove approfondisco casi pratici, dove rispondo alle domande e accedono alle chat esclusive come quelle di diretta studio che faccio oggi alle 14. Il governo cancella definitivamente la cessione del credito con un decreto pubblicato, approvato, firmato, pubblicato in gazzetta ufficiale in modo molto frenetico. Il 16 febbraio scorso cancella le due opzioni anche a seguito dell'analisi dell'Eurostat e quindi con motivazioni dal punto di vista di bilancio dello Stato perché i crediti mediante gestione del credito sono una passività per lo Stato. Questo almeno è la motivazione principale per la quale è stato fatto d'urgenza questo decreto, il decreto numero 11 del 2023, viene cancellata l'opzione di cessione e di sconto da oggi in poi, anzi da ieri in poi, dal 17 febbraio 2023 in poi, se vorrai agevolare le spese con i bonus edilizi qualsiasi, super bonus, bonus casa, sisma bonus, ecco bonus, eliminazione delle barriere architettoniche e tutti gli altri, quelli che potevano soffrire di cessione di sconto, potrai agevolarle solo in dichiarazione dei redditi con tutte le conseguenze del caso. Il decreto si compone di tre articoli, dei quali solo due sono quelli che ci interessano perché l'ultimo è l'entrata in vigore del decreto stesso. Il primo riguarda la responsabilità solidale dei cessionari. Viene definita, vengono definiti ulteriormente i limiti entro i quali il cessionario non viene ritenuto responsabile con l'eventuale illecito, con l'eventuale maturazione illecita del credito da parte del contribuente, da chi avrebbe dovuto eseguire i lavori. Per rimanerne fuori, fa una lista della spesa il governo, una sorta di elenco di documenti che il cessionario, cioè chi riceve il credito, deve dimostrare di aver richiesto per dimostrare di aver ottemperato alla dirigenza richiesta, cioè aver verificato che il credito sia buono. Tra questi documenti ci sono i titoli edilizi, la notifica preliminare, la visura catastale, le fatture e le documentazioni che attesta i pagamenti effettuati, le asseverazioni quando sono necessarie, le delibere assembleari, le dichiarazioni, le relazioni inerenti agli interventi dell'efficientamento energetico, quelli del decreto requisiti del 6 agosto, il visto di conformità e una dichiarazione sulla base del decreto legislativo 231 del 2007. È una sorta di elenco dei documenti che deve essere richiesto da chi accetta il credito per non essere considerato, per non avere conseguenze. In realtà poi col 6 quater nello stesso articolo viene specificato che il mancato possesso di una parte della documentazione non è da sola una causa di responsabilità solidale. L'articolo 2 invece è quello che ci interessa di più, e cioè la cancellazione dell'accessione del credito. Con l'articolo 2 dal 17 febbraio 2023 non sarà più possibile optare per le opzioni alternative dell'articolo 121 per tutti gli interventi contenuti nel comma 2 dello stesso articolo. Quindi tutti gli interventi super bonus, bonus casa, eco bonus, sisma bonus, eliminazione delle barriere architettoniche, fotovoltaico, batterie di accumulo, colonnine di ricarica. Tutti gli interventi elencati che potevano usufruire della cessione del credito non sarà più possibile cederli o scontarli, ma bisognerà soltanto portare in dichiarazione dal 17 febbraio in poi. Che cosa significa questo? Perché ci sono delle eccezioni, cioè alcuni potranno continuare a cedere o scontare il credito maturato da interventi che sono in corso di realizzazione o per i quali sono state presentate le pratiche. Quindi chi potrà continuare ad utilizzare la cessione? Per quanto riguarda gli interventi super bonus dell'articolo 119, solo coloro che entro la data di entrata in vigore del decreto, quindi al 16 febbraio scorso, per gli interventi diversi dai condomini deve essere stata presentata la CILAS. Quindi edifici di unica proprietà unifamiliare deve essere stata già presentata la CILAS al 16 febbraio. Questo permetterà di usufruire, di continuare ad usufruire della cessione dello sconto. Per i condomini invece, oltre ad aver presentato la CILAS, è necessario che la delibera assembleare che approva i lavori sia stata adottata. Mentre per gli interventi di demolizione e ricostruzione deve essere stata presentata, sempre al 16 febbraio, l'istanza del permesso di costruire. Per quanto riguarda invece tutti gli altri interventi diversi dal super bonus, sempre al 16 febbraio, per poter continuare ad usufruire di gestione di sconto, deve essere stata o presentata la pratica, quindi CILAS ha permesso di costruire, o per gli interventi dove non è necessaria la pratica, che siano stati avviati i lavori, iniziati i lavori. Invece per quanto riguarda il sisma bonus acquisti o l'acquisto, l'agevolazione per l'acquisto di immobili interamente ristrutturati, contenuto nell'articolo 16 bis del TWIR, non c'è riferimento né all'inizio dei lavori né alla pratica presentata, ma deve essere stato o registrato il contratto per eliminare o stipulato il contratto definitivo di compravendita. In conclusione, viene cancellata la possibilità di usufruire di gestione o di sconto per qualsiasi agevolazione. È stata cancellata anche nell'articolo 14 e nell'articolo 16 del decreto 63 2013, quelli riferiti alle possibilità di gestione in alcuni casi, agli interventi ecobonus e sismobonus che erano già presenti prima del decreto rilancio del 2020, prima del super bonus. Sono state cancellate anche quei commi e alcuni passaggi che si riferiscono alla possibilità di gestione. Tutte le gestioni quindi vengono cancellate, la gestione non esiste più, tranne per coloro che hanno già presentato la pratica o, in caso non sia necessaria la pratica, che hanno già avviato i lavori al 16 febbraio 2023. Sismobonus acquisti devono avere il contratto regolarmente registrato, sempre entro la stessa data. Questo cosa comporterà? Da qui in avanti inizierà l'iter di conversione del decreto, quindi i 60 giorni per convertirlo in legge, dove probabilmente ci saranno molti emendamenti, ma io ritengo che le modifiche che verranno fatte, se verranno fatte, saranno pochissime, vista la modalità con la quale è stato pubblicato il decreto, l'urgenza con la quale è stato pubblicato, almeno l'urgenza dal punto di vista del governo, con la quale è stato pubblicato il decreto. Quindi, a mio parere, le modifiche saranno proprio poche, anche dopo aver parlato con le varie parti sociali, che in teoria avrebbero dovuto farlo prima di pubblicare il decreto, di approvare il decreto, ma questo è quello che abbiamo ora. Alcuni vedono un lato positivo, cioè questa chiusura della cessione del credito, delle future cessioni del credito, determinerà una riapertura delle nuove cessioni da parte delle banche per coloro che potranno ancora applicarlo. Io non sono così positivo, non vedo un futuro coseroseo, però magari vorrei essere smentito, perché significherebbe che almeno una notizia positiva in tutto questo c'è, cioè la riapertura delle cessioni per coloro che possono continuare ad utilizzarli. Certo è che la chiusura della cessione del credito determinerà in modo più incisivo quello che avevo già detto nei contenuti precedenti, e cioè un blocco dei lavori a fine volano di tutto ciò che è partito a seguito del super bonus e della cessione del credito, come funzionava nel 2020-2021 e anche nel 2022, anche a seguito di tutte le normative che poi hanno bloccato il meccanismo. Siamo in mezzo ad un volano che deve smaltire i lavori in essere, ma questo determinerà, se non cambierà nulla, se non verranno fatte ulteriori manovre, determinerà un blocco, perché faranno i lavori solo chi A avrà la possibilità economica o dei risparmi o l'accesso a un credito e B avrà la capienza IRPEF per poter usufruire del bonus, perché senza cessione e senza sconto dovrà essere portato in dichiarazione dei redditi. Il super bonus è in 4 anni, le rate sono molto alte, bisogna poi fare due conti se effettivamente poi accederai a quella agevolazione e con molta probabilità anche chi dovesse avere possibilità economica, se non ha l'urgenza estrema di fare degli interventi sulla propria casa, rinuncerà in attesa di tempi migliori se non ha capienza IRPEF. Perché sprecare un bonus? Perché sprecare del credito che andrebbe perso? Perché ti ricordo che tutto ciò che è in eccesso alla capienza IRPEF è perso, non si porta poi agli anni successivi. Vedremo che cosa succederà da qui in avanti. Tieni sotto controllo il canale perché pubblicherò regolarmente nuovi contenuti sia nel canale YouTube sia nel sito danielotorresi.it. A proposito, nel sito danielotorresi.it iscriviti alla newsletter così ogni settimana ti invio un riepilogo degli articoli che ho pubblicato. Ho ricominciato da inizio gennaio 2023 a pubblicare nuovamente degli articoli. Grazie di essere arrivato fin qui, lascia mi piace se ancora non l'hai fatto e ci vediamo al prossimo contenuto.